Amiche ed amici, benvenuti al... 10 comici in una gara tutti contro tutti. È un incubo questo gioco. La regola è una, chi ride è fuori. Pronto! Io sarò l'arbitro per tutte le sei ore dell'esperimento e ammonirò personalmente ogni concorrente che riderà per la prima volta. Finiscila di fare il divertente. Alla seconda risata lo espellerò, costringendolo ad abbandonare definitivamente il gioco. Dio, quanto è divertente. Ma so, un cazzo! Attico alla porta! Buonasera, sono Massimo D'Alema. Mi ha fatto ridere dentro. Eeeh, fede! Clamoroso. Eeeh... Grazie a tutti